È proprio vero che al Piemonte turisticamente manca solo il mare. Per il resto questa regione conquista tutti, soprattutto gli stranieri, che oggi rappresentano il 52% delle presenze sul totale, superando la media nazionale del 48%. Dalla montagna alla città, dalle langhe ai borghi antichi, dai suoi laghi alle colline, è questa una delle cartoline d'Italia dove il livello di soddisfazione post-soggiorno raggiunge il 91%, con il 93% che dichiara di voler tornare, superando in termini di gradimento Milano, che si ferma sotto il 90%. Ospitalità che in Piemonte vale il 9,5% del PIL regionale, con oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze nel 2023. Secondo poi l'ultimo report pubblicato dall'osservatorio turistico della regione Piemonte, Visit Piemonte, gli arrivi quest'anno sono aumentati del 2,2%, le presenze del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Di fatto, quest'aumento dell'interesse turistico ha avuto un impatto positivo considerevole sull'economia locale, stimolando settori, i quali l'alberghiero, i servizi, la ristorazione e il commercio, e dimostrando l'importanza del turismo come motore di crescita economica. A scegliere il Piemonte per le vacanze sono in primis i tedeschi, seguiti da Francia, Benelux e Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, con un eccezionale più 35%, Scandinavia e Spagna. Turisti per i quali complessivamente i volumi di spesa salgono del 22,3%, con una stima che si aggira intorno a 810 milioni di euro, arrivati in regione solamente considerando le transazioni in loco con carte di credito straniere. Le mete predilette? Senza dubbio Torino e la sua provincia, con oltre 7 milioni di presenze. Città turistica per eccellenza, il capoluogo Sabaudo non è solo arte e cultura, ma anche intrattenimento e sport, a partire dalle ATP Finals, che nel 2023 hanno avuto un impatto economico da oltre 300 milioni di euro. Fuori città, invece, la parola d'ordine è outdoor, e quello scoprire e vivere luoghi all'aperto disseminati in tutta la regione, a partire dai laghi, con un distretto turistico che registra oltre 4 milioni di presenze.